Secondo le amministrazioni noi siamo volontari ma invece percepiamo una busta paga, versiamo i contributi e quindi non siamo più volontari. Noi siamo vigili del fuoco discontinui e siamo definiti volontari solamente per nascondere una forma di precariato che la maggior parte della popolazione purtroppo non è a conoscenza. Ma noi abbiamo il dovere e l'obbligo di farlo sapere perché il primo passo verso un futuro migliore è la sensibilizzazione della popolazione a questo problema enorme che si ha nel reparto della sicurezza del cittadino. È il giovane vigile del fuoco Stefano Cecconi a spiegare ai nostri microfoni che cosa stanno vivendo lui e tanti altri suoi colleghi vigili del fuoco appunto discontinui. Una figura che non ha le stesse tutele dei vigili permanenti ma che espleta le identiche funzioni all'interno di un comando. Fino al 2014 loro potevano essere chiamati per otto mesi all'anno e lavorare per 20 giorni che a livello retributivo significavano circa 1200 euro. Gli altri mesi percepivano una sorta di indennità che si aggirava intorno ai 200-300 euro. Ma il vigile del fuoco si sa prima di tutto è una missione e questa condizione seppur precaria permetteva loro di portare avanti una carriera. Nel 2015 il Ministero ha deciso dei tagli, lo stanziamento per i discontinui sarà dimezzato e loro lavoreranno per soli 14 giorni al mese, a chiamata ovviamente. Una condizione che farà avvenire meno anche ad esempio una tutela come la tredicesima. Noi non chiediamo di essere assunti domani dallo Stato, noi chiediamo solamente di riavere quei pochi diritti che avevamo prima dell'ultimo decreto ministeriale. E chiediamo anche ai nostri colleghi di tutta Italia di fare informazione, di dire alla gente chi siamo noi, qual è il nostro operato e qual è la nostra qualifica effettiva all'interno del Corpo Nazionale. Ad Arezzo e provincia sono circa 160 i vigili discontinui ma la protesta corre attraverso tutto lo stivale e alcuni di loro sono già pronti a rifiutare le chiamate. Se siamo 30, 40, 50 è un conto, si inizia a essere migliaia ha tutto un altro peso, questo è. Al momento noi stiamo vivendo una situazione di malessere, una situazione di precariato ma nonostante questo la nostra passione rimane immutata verso questo lavoro e verso questo corpo. Non mi sento né precario né discontinuo ma un vigile del fuoco che viene da dentro la passione.